Il mio fidanzato mi aiuta a preparare gli ordini e a pescare due ciondoli a sorpresa. Per prima cosa appende questo addobbo per l'albero con lo Shetland. Aggiunge anche la pallina con il nome Laila e questo gancino per appenderlo all'albero. Secondo ordine è questo by Maraner. Mette anche due zampine, una blu e una rossa. Nei commenti poi scrivetemi se è stato bravo. Gli andiamo a mettere sul packaging e i portachiavi sono pronti. Adesso dobbiamo andare a pescare due palline a sorpresa. In ogni ordine effettuato, fino all'esaurimento, inserirò un charme a sorpresa. Prendiamo la pallina. 3, 2, 1... E abbiamo trovato il ciondolo con la corona rosa. Eccolo qui insieme al suo portachiavi. Adesso andiamo a pescarne un altro per questo addobbo. La parte più difficile è far uscire la pallina. Per lo Shetland invece abbiamo trovato una nuvoletta azzurra. Guardate quant'è carina!